Il Padre Misericordioso La tavola del perdono e della gioia E questa è Eucaristia Eucaristia che Padre Pio viveva intensamente Come profonda unione al Cristo crocifisso e risorto Allora da lui, da Padre Pio Vogliamo imparare a vivere il mistero eucaristico con profonda fede Vogliamo ripartire come uomini rinati dalla misericordia di Dio Vogliamo partire da questa Eucaristia Che è il luogo dove possiamo riscoprirci fratelli bisognosi l'uno dell'altro Figli amati e perdonati Figli accolti Dall'abbraccio misericordioso del Padre Che sempre ci attende Amen Dall'abbraccio misericordioso del Padre